La provincia 460 La provincia 460 È accaduto oggi, domenica 3 giugno, poco dopo le 14. Un arenoclio con a bordo una coppia che si accorta troppo tardi che la donna stava attraversando. L'impatto è stato inevitabile. Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca del Canavese, nell'isoccorso del 118 e i carabinieri della Radiomobili di Vrea. La donna, dopo il primo ecuro, è stata ritrasportata all'ospedale CTO in gravi condizioni. Al momento non si conoscono in generalità perché era senza documenti. L'impatto è stato utente. Grazie a tutti. Grazie a tutti.